Ok, salve a tutti ragazzi! Dito, Bruce, Ben Mi piace la vostra, i miei grandi, i concetti, noi assumiamo in 25 minuti di stasera. Il primo pezzo che facciamo è il perfetto Bruce Machine un ormai a chi è macchina del brusco del peco nel caso del pezzo è le donne di gli incidenti sorda You like Stile, you like Class you love me any on your own out You like Griz, you like Star you love me any on your own out When I found out.. You like, you love it Grazie a tutti 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 Grazie a tutti